volevo mettere il punto su una cosa mi sono accorto che si è fatta troppo una distinzione in questi anni tra quello che è vecchio ed è portatore di un messaggio e quello che è nuovo ed è soltanto becero intrattenimento e io invece voglio buttare giù un po' questa barriera e voglio dimostrare che si può fare arte e musica contemporanea continuando comunque a mandare un messaggio non ci sto a fare una cosa che manda un messaggio però suona vecchia e quindi non riesce a parlare alle nuove generazioni non ci avrebbe proprio senso quindi l'intenzione del sound era un po' questa sicuramente ispirarsi a delle cose old school però ci tengo a dire che non è un pezzo old school è un pezzo che si ispira all old school ma risulta poi prestissimo guarda la riflessione è nata più che altro dal fatto che hanno provato in tutti i modi a sottolineare quanto questa pandemia fosse democratica e che ci mettesse tutti sullo stesso piano e ovviamente non è così no sotto tutti gli aspetti sia artistici che anche economici no perché diciamo che c'è qualcuno che l'ha sofferta molto di più e questa situazione ha soltanto messo messo a nudo questi questi problemi quindi sicuramente ho utilizzato la parola flexiglass come una corda per agganciarmi all'attualità però dicendo guardate che sto mondo faceva sicissimo pure prima sì ma penso che c'è sempre stata sicuramente ci sono stati dei momenti in cui magari la situazione culturale era un po' più elevata e quindi permetteva che la musica no gli andasse a prezzo però secondo me in tutte le epoche c'è stato qualcuno che dorme e qualcuno che sveglio sempre e io voglio stare tra quelli che stanno svegliendo perché io invece ultimamente c'ho un po' l'artista dell'identità musicale e c'ho sempre paura che questo mio spaziale poi alla fine mi rimerà contro perché non lo so spesso si sente un po' capita spesso che un artista si afferma tramite una forte identità di sound musicale quindi ho paura che quando spazio troppo prendo il largo però non ci posso fare niente a me mi piacciono tante cose quindi le diffuto tutte credo che il comune denominatore alla fine sia il linguaggio mio della scrittura e della voce che poi faccia da collante con tutti questi sound diversi ci ho provato sono tanti anni che dico vabbè adesso mi imposto un sound e resto con quello ma poi alla verità mi piacevano un sacco di cose quindi penso che continuerò a fare con queste copertine e queste cartoline le sta disegnando una ragazza che si chiama Nicole che è la compagna del ragazzo da cui registro che è Francesco Perguidi che diciamo è un po' a capo di questo collettivo de voce dello studio loud and proud quindi abbiamo fatto un po' tutto in squadra siccome ultimamente nel mercato vige un po' questa regola io non ho nessun problema ad adattarmi di fare uscire le cose a singoli abbiamo detto cerchiamo di impacchettare bene questi singoli e non fare la solita cosa e quindi cerchiamo di fare in modo che anche la cover sia una piccola opera d'arte artigianale sono contento che arriva perché ultimamente non ci si fa casa a queste piccole cose quindi sono contento che arrivano anche queste posso dire che è tutto posso dire che è tutto io l'ho già detto più volte che ho il terrore di andarmi nella città quando mi chiedono in che posto vorresti essere io rispondo sempre le città perché è la massima fonte di respirazione il quartiere più popoloso di Roma quindi probabilmente d'Italia d'Arcola che da solo il mio quartiere fa più di 200.000 abitanti e dentro c'è tutta la vita che mi serve per scrivere quindi sinceramente fare avanti e indietro sulla Tuscolana sotto a quei palazzi, sotto a quel cielo, sotto a quelle luci è la cosa più vicina a New York che mi poteva capitare diciamo svelare un po' un retroscena io quel pezzo l'ho scritto quando ho visto che Salvini prendeva piedi e mi sono proprio invignato non si poteva vedere questa cosa che prendeva tutti quei voti a sud e il dirigente invece di stare fino a un pezzo pesante la solita cosa che potresti scrivere contro Salvini ho fatto il contrario, ho scritto un inno gioioso a quel luogo però ovviamente c'era un modo dell'orgoglio diciamo però si è intuito bene, a un certo punto dico sud non è un posto nel pianeta è un posto nelle abitudini, per me pure Genova è sud è un modo di stare al mondo, non è un luogo geografico poi viviamo in un ambiente commerciale legato alla musica che si porta al silenzio cioè siamo in un momento in cui anche gli artisti dopo un po' mollano e l'unico modo per poter guadagnare con la musica e poter sopravvivere è quello alla fine di stare nel silenzio dei buoni è difficilissimo trovare gente che prende posizione e allo stesso tempo ha una grande visibilità quindi a un certo punto questo qui è un sistema che poi ti porta al silenzio ed è frustrante perché da quel silenzio poi dipende tutta questa situazione è complicata perché mi rendo conto che anche il mercato non ti dà molto spazio per parlare sicuramente il rap è riuscito a entrare nel grande mercato anche al contrario, oggi il pop non può più fare a meno del rap di un featuring oppure di approcciarsi alla canzone più o meno con uno stile che rimanda rap perché ormai il vero pop è il rap però adesso bisogna fare uno start, bisogna fare un altro passo adesso bisogna riportare il rap a quella natura un po' conscious che comunicava bisogna ritornare a dire alcune cose e smetterla di stare nel silenzio esatto secondo me qui i problemi sono due il primo è che c'è proprio quel meccanismo di funzione per cui un ragazzino bianco benestante a un certo punto si vede e si atteggia come un nero povero americano quindi a un certo punto lì c'è proprio un problema forte di identità chiaro insomma penso che c'è proprio un problema psicologico forte perché di apparire come non si è invece di apprezzarsi questa non è musica, questo è un problema di psicologia secondo me il problema però è che anche chi invece vive in delle condizioni se vogliamo più credibili ecco riguardo la strada riguardo certi ambienti di periferia come i nostri che però non riescono mai a far vedere l'altra faccia delle periferie fanno sempre vedere quella legata all'estetica dell'ostentare la ricchezza appena faccio 5.000 euro invece di tenermeli invece compro un orologio invece faccio la foto per metterla sui social anche questo qui è un problema cioè non basta soltanto essere credibili essere di strada ma essere brillanti e mostrare anche l'altra faccia della periferia non farci etichettare e dimostrare che anche noi che viviamo in certi quartieri possiamo essere portatori di cultura e di bellezza e non dei soliti ricette no, non sono contento della situazione in cui mi trovo sono contento di quello che faccio però sono affamato per essere soddisfatto c'è bisogno di più spazio c'è bisogno di dire le cose che voglio dire a più persone e di giocarmi un'altra battaglia se devo essere sincero mi sento un po' se devo entrare in acquario vorrei giocarmi una partita più grande non farò delle cose ogni volta si aprono sempre più spazi anche per esigenze come la mia da una parte si aprono sempre più possibilità dall'altra diciamo che c'è sempre un sistema che comanda interante che è quello lì il linguaggio della tv delle interviste stupide non so, dei talent, dei reality quindi mentre si aprono le disfacce allo stesso tempo c'è sempre quel mondo che prima che lo butti giù che vorranno secoli quindi un po' e un po' non sono né pessimista né ottimista la situazione è questa però se gli diamo belle capocciate vediamo poi sicuro che è in giro